Davide voleva sapere Dio che cosa devo fare Dio come mi devo comportare eterno ti prego in questo momento di difficoltà dimmi cosa devo fare è andato da sacerdote è andato dall'intermediario è andato e io e te dobbiamo andare da Gesù che cosa devo fare come mi devo comportare Davide è un bellissimo esempio di quanto sia importante nelle decisioni nelle difficoltà nei momenti difficili particolari della nostra vita consultare il Signore prima di prendere le decisioni dai ascolto la voce del Signore chiedi questa sera consiglio alla sua parola chiedi consiglio al Signore prima di prendere le decisioni non prendere decisioni affrettate non fare da solo chiedi sempre al Signore e vai questa sera al Sommo Sacerdote che farà questa consultazione per te chiaramente sto parlando per simbolo Gesù ti dirà quello che devi fare